La voce della multinazionale Terna, a casa Italia 2, è la risposta del sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, nella prossima puntata del programma della nostra emittente, un programma di approfondimento sui temi della provincia di Salerno e non solo. Ascolteremo Stefano Conti, responsabile affari istituzionali e autorizzazioni, che risponderà alle nostre domande in collegamento telefonico. Una testimonianza da non perdere, così da non perdere la risposta accorata del primo cittadino della città delle terme. Scopriremo nuovi aspetti sulla vicenda legata alla stazione elettrica, alle prossime mosse future e come si è arrivati a questo punto. Tra i vari punti da sottolineare, quello che, secondo Terna, i parchi eolici saranno realizzati e che l'allagamento dello scorso novembre è dovuto al mancato termine dei lavori. Punti confutati dal primo cittadino di Montesano sulla Marcellana. Si parlerà anche di terme e futuro del territorio. Le puntate andranno in onda lunedì alle 9.30, martedì alle 15.30 e mercoledì alle 21.00. Puntate da non perdere per conoscere ancora meglio il tema Terna e della stazione elettrica.